Buonasera a tutti, scusate, ma proprio a me è subito, a me è subito via, eccoci qua, con Mosè. Allora, primo canto, non so come ci faccio, come siete visti l'anno scorso, quindi penso che si conoscemo. Il primo canto è stato scritto da una nostra ex componente della cantoia, vi dobbiamo un grande ringraziamento. Penso che con tutte le cose che abbiamo fatto potremmo usare cose, potremmo usare cose, potremmo usare cose in diritto al tuo oro. Ne parlerebbe, non è. Allora, di gloria di oggi, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. A tutti, a tutti, a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.